Allora, si raffiuto quattro secchiettini. Oh, c'è il tuo amichetto, eh? C'è il tuo amichetto là dentro, eh? Eccolo. Zitta! Nonna, c'è un abbaio che ti... Chi è, mamma? Che hai visto? Ti stono. Buongiorno, amichetto. Saluto il tuo amichetto, io che ce ne andiamo. Vai, saluto il tuo amichetto. Saluto, che andiamo via. Eccimo è qua. Allora, buongiorno. Bentornati in un nuovo giorno. Stamattina, ragazzi, voglio... Vorrei... Vorrei... Dedicarmi alle pulizie un po' più a fondo, perché, dico la verità, non le faccio da un po'. E quindi, sicuramente un mesetto. Cioè, pulizia a fondo a livello di lampadario, armadio. La cucina all'interno la pulì in questi... In questi giorni, per la settimana scorsa l'ho pulita. Gli ho dato una bella pulita veloce. Puro perché? Poi lo sai cos'è? Se la pulisci sempre... Cioè, alla fine non è sporca la... La cucina all'interno, quindi se... Ogni tanto gli passi sta pezza dentro. E appunto vorrei dedicarmi al lampadario in cameretta, e al lampadario in camera mia. Non lo so, queste parti un pochino più alte, diciamo. E vorrei farsi pulizia a fondo. Voglio pure un po' i vetri. Tanto c'ho il pannovette. Subito faccio. E questo è. Comunque, sono appena tornata. Ma quello che faccio immediatamente è mettermi con questo topo della Ocean Sapata. Ragazzi, io li amo. Li amo veramente. Non c'è nessuno. Ciao. Buongiorno. Vi ho domandato a mio marido il fatto del tè. Allora, eccomi qua. Ho incontrato la mia vicina. Comunque, vi stavo dicendo. Vatene. Oggi voglio fare queste pulizie a fondo. Ma vediamo cosa ne usci fuori. Prima cosa, però. Lavaggio mani. Ma rona, raga. Un caldo per fortuna che in chiesa, oggi sono andata nella chiesa dove andavo sempre, è tutta un'altra cosa. Comunque, ci stanno tutti ventilatori. Ma rona. Il prete, il sacerdote qui ha fatto veramente una grande, grande cosa. E niente. Quindi, ora, lavaggio mani. Mi faccio il bel caffettino. E poi mi metto a pulire. Parto dalla mia camera. Mi voglio anche togliere le lenzuola. Oggi tengo voglia. Oggi, oggi, raga, non so perché. Cioè, a me va così. Non so voi, ma ci stanno certi momenti dove abbiamo più voglia, i momenti che non c'è voglia di fare proprio un cavolo. Stamattina mi sembra di aver voglia di fare. E quindi, va bene così. Prima cosa, io levo questo. Che non ce la faccio tutta, amore. Patata, patata. Allora, mi sono presa qui il secchio. E questo è, raga. Allora, mo. Caffettino. E poi si pulisce. Oh, guardate. Guardate questo top quanto è bello. È tutto brillantinato. Ma poi fa il seno bello. Questo mi piace troppo assare. Allora, prima cosa. Ne vado un attimo a riempire il secchio. E come prodottino, aspetta che questo è un vaso per mantenere la porta. Benvenione il casino dei detersivi. Finisco di usare questo pronto qua. Ok. Almeno lo tolto da mezzo e via. Però mi aspetto che si riempia il secchio e poi dopo lo butto. Ok. Non ne metto tanto. Ne basta un goccio. Dopo quest'altro lo diluisco con l'acqua. Perché comunque bisogna cambiare acqua dopo. Allora, questo. E poi aspetta. Volevo prendere uno straccetto che ho messo qui. Anzi, ma consumo... No, questo qua rosso. Perché... No, questo. E un po' di mangiapolvere da pulire sul lampadario. E poi dopo passo il panno per andare a riasciugare il tutto. E cazzo, ma pronto. Il mangiapolvere è questo. Il panno Vetex è questo qua. Penso che lo conoscete ormai. La maggior parte di voi è molto molto nominato. C'è molto conosciuto da tanti anni. Ed è super ottimo. Pure per fare i vetri. Cioè, soveti soprattutto per i vetri. Non lascia loni e nè nulla. E non c'è bisogno lì di fare 50.000 passati. Quindi io lo trovo veramente fantastico. Questo panno. Una città. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.